Ciao popolo di Mediterranea, Mediterranea on the road, oggi è arrivata a Catania e siamo nella Fondazione Unisi Cosentino e avremo un ospite d'eccezione che ci spiegherà esattamente tutto quello che la Fondazione realizza in particolare parleremo con la responsabile didattica della Fondazione Unisi Cosentino che è Mercedes Aurei, non la vedremo più tardi, ciao!